Roberto Formigoni, 64 anni, molti di meno, celibe, molti amici, patricia china, militare, un giornalista, 1,88, 105, 88 kg, 87, determinato, simpatico, diverso da come spesso mi fanno a pariettino, straordinario, straordinario, così semplice, diversi, penso quelli di Don Giussani soprattutto, o genere quelli di studio, se mi seguirete avrete il centuplo qua giù e la vita è eterna, è veramente la cosa più bella del mondo, ancora e sempre il Led Zeppelin, la corsa, vince Milano, fatto, Barcellona, non ho rimpianti, avrei fatto il pilota di Formula 1, che avrei fatto il lavandaio, perché così non era necessario studiare, sognavo Barbara, una ragazzina tedesca, bionda, con le trecce e lei sognava me, era il 1969, cominciavano gli anni di piombo, sognavo che il mio paese potesse uscire da quella tragedia, sogno di poter continuare a lavorare per il bene d'Italia, Pinocchio, quello che mi ha spalancato alla vita e alla bellezza della vita, guardare gli altri, impegno, Berlusconi, Casini, nessuno, 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 no, avete sbagliato, il federalismo e la prosecuzione dell'unità, perché non ha mai voluto riconoscere i suoi errori, la moderazione, l'equilibrio, a Tremonti ma solo perché non ne avrebbe avuto bisogno, ogni cosa a suo tempo, sussidiarietà e il buon governo, per il mio tempo nella Stramelano di domenica, 50 minuti e 50 seconde su 10.100 metri, l'anno 21 viene anche tu, pochissime cose, la mia media era l'8 e anche per le cose che sto facendo la mia media è l'8, niente, non ho mai preso un 4 in vita mia, non solo 5, gli insulti, gli insulti gratuiti, soprattutto all'inizio del mio affare politica non pensavo che ci fosse tanta capire, Presidente, vai avanti ad essere Roberto, Guido, so che domani verrai a trovarmi come fai sempre, è l'unico giorno dell'anno in cui puoi dire che è scrittore di me, è giusta la moratoria di 12 mesi, pensiamo, riflettiamo, non decidiamo sull'onda delle emotività, siamo razionali, i profumi vanno accolti insieme a tutta l'Europa, è un gesto umanitario che dobbiamo far cercare, farei il Berlusconi, andrei, parlerei, convincerei e vincerei la partita, e dai, Roberto Formigoni, straordinario, è così semplice? Grazie a tutti! Grazie a tutti!